Ciao a tutti da Marco Domeniconi il vostro consulente musicale preferito Oggi tributiamo questo programma a Mr. Sean Connolly che ci ha lasciato e speriamo torni presto Just a drink, Martin, Shaken, Master James Bond è un personaggio immaginario creato nel 1953 dallo scrittore britannico Ian Fleming The James Bond series from Eon Productions features numerous musical compositions since exceptions 1962, many of which are now considered classic pieces of british film music Il Sample Nancy Sinatra Do you expect me to talk? No Mr. Bond, I expect you to die You only live to us, Nancy Sinatra Poi Ian Fleming rese universalmente famoso questi film ispirati ai libri quali protagonista 12 romanzi e 2 raccolti di storie colto e raffinato agente segreto del controspionaggio inglese già comandante della marina militare bonda come numero identificativo 007 dove il doppio zero indica che ha licenza di uccidere In origine questa spia britannica si era dovuto chiamare James Secretan poi Fleming che cercava un nome semplice fu colpito da quello dell'autore di un libro di ornitologia che aveva fra le mani James Bond appunto 처럼 sottotototototototototototototototototototot o Her Majesty's Secret Service e various songs such as Shirley Bassey's Goldfinger Paul McCartney's Live or Let Die Carly Simon's Nobody's Very Better Sheena Easton's For Your Eyes Only Duran Duran's View To Kill Tina Turner with GoldenEye Sam Smith Adele with Skyfall and many others I film hanno colpito subito gli spettatori per i scenari esotici dove il protagonista agisce spostandosi da un continente all'altro e le sue sfide estreme con il nemico di turno, le auto fantasiosamente accessoriate per difendersi e attaccare le armi e gadget da missione che gli fornisce Q nonché le donne sempre bellissime che seduce e per questo sono chiamate Bond Girl dalla critica e dal pubblico Tina Turner with GoldenEye Paul McCartney's Live or Let Die Thanks also to these great DJ skills and crafty cats who made this Megamix World domination, same old I need dream If you do need time Why should I need more time? Job's done Ladies and gentlemen You've been listening to the sounds of ACM Thank you great DJ Ciao Mr. Sean Connery Ogni mattina un ospite di rilievo Con noi oggi Marco Domenicone Today at his DJ concert Marco Domenicone leads you to the discovery of sounds and rhythms rarely heard elsewhere You You You